Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Gruppo per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. L'idea era quella di fare spettacolo per divertire ma anche per raccogliere fondi a sostegno delle scuole e l'obiettivo dei professori attori degli istituti superiori elbani è stato doppiamente raggiunto perché la compagnia del registro con la messa in scena di Don Raffaele e il trombone quest'estate ha riscosso un grande successo da parte del pubblico. Un successo che ha permesso l'acquisto di nuovo materiale scolastico. Con i fondi raccolti abbiamo potuto comprare un videoproiettore, anzi due videoproiettori, un computer, un monitor ed una fotocopiatrice stampante che sono stati donati alle scuole La Media Pascoli, l'ITC Cerboni e l'ISIS Foresi. La cerimonia per ringraziare gli attori della compagnia del registro è stata organizzata lunedì sera all'ISIS Foresi con un rifresco sapientemente preparato dai ragazzi e dai professori della sezione alberghiera dell'istituto. Sicuramente dato il successo di quest'estate possiamo annunciare che sarà fatto un altro spettacolo presumibilmente nel mese di maggio e con un'ambizione maggiore sempre se ci daranno una mano le istituzioni che già hanno contribuito l'anno scorso se quest'anno riusciremo a coinvolgere altri enti pubblici anche aziende private che ci possono sponsorizzare potremmo raccogliere molto di più di quello che abbiamo fatto l'anno scorso e quindi il beneficio per le scuole dell'Elba sarà maggiore.